La ricca ereditiera ha detto sì all'attore americano sulle nevi di Aspena alla fine ha ceduto anche la single più desiderata del mondo, bionda, sensuale e miliardaria, l'esplosiva Paris Hilton convolerà presto a nozze. Solo di recente la star dei reality show aveva dichiarato di essere fidanzata con l'attore Chris Silke dopo averlo frequentato assiduamente per oltre un anno, con il trascorrere dei mesi il rapporto si è rafforzato fino a convincere la coppia a compiere il grande passo. La vulcanica Paris e il 32enne si sono scambiati la promessa di amore eterno in uno scenario da favola come testimoni allo scatto pubblicato su Instagram, in occasione del capodanno i due giovani hanno deciso di trascorrere qualche giorno di relax nella località scistica di Aspen in Colorado. Chris si è inginocchiato sulla neve ed ha chiesto alla Hilton se voleva diventare sua moglie, sono così entusiasta di aver trovato l'amore della mia vita. La 35enne ha raccontato a Peoply l'importante svolta sentimentale, non mi sono mai sentita così amata, lui è perfetto per me ed in questi mesi mi ha dimostrato che le favole esistono per davvero. La foto della proposta di nozze su Instagram, in precedenza l'americana era stata legata sentimentalmente al modello Jason Schauma in più di una circostanza aveva ammesso di aver avuto diverse relazioni intime. Dall'altra parte Zilka era riduce da una breve relazione con la designer Anna Bate, l'attore ha dichiarato che Paris è una donna bella e incredibile, mi sento l'uomo più fortunato del mondo a sposare una donna da sogni. Non vedo l'ora di passare il resto della mia vita con lei, Paris Hilton si è soffermata anche sul prezioso dono del futuro marito, è il più bell'anello, che abbia mai visto. Da rilevare che la 35enne aveva incontrato per la prima volta la star di Hollywood in occasione della festa degli Oscar, ai numerosi rumori avevano fatto seguito una serie di twelfth, che l'esplosiva DJ aveva inviato al protagonista di Taylor Stoverse nel giorno di San Valentino. Ho compreso subito che era speciale, fin dal primo appuntamento ho capito che c'era qualcosa di speciale in lui, la ricca ereditiera ha spiegato di non essere mai stata così felice e fedele nella sua vita, fin dall'inizio ho capito che volevo stare per sempre con lui. Da rilevare che Zilka ha tatuato il nome di Hilton sul suo abbraccio, alcuni mesi fa la Hilton fu protagonista del video del nuovo singolo di Fede Zilunga Ac senza pagare a quale parteciparono anche anche Pio e Amedeo, per uno scherzo del destino, nel giro di pochi mesi, sia il rapero, che la miliardaria hanno deciso di compiere il grande passo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!